I militari della stazione Carabinieri del Parco di Andria hanno portato a termine una specifica attività di indagine scaturita a seguito di ripetuti controlli su alcune zone del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sotto osservazione in particolare la località Punta Bosco di Spirito, dove i militari hanno verificato che alcune aree in origine coperte da vegetazione spontanea tipica della Murgia. Erano state di recente oggetto di trasformazioni attraverso il dissodamento, la scarificatura e la frantumazione meccanica delle rocce calcaree. L'area è risultata vincolata sotto il profilo paesaggistico, essendo oltre che Parco anche zona di protezione speciale, sito di importanza comunitaria e area a vincolo idrogeologico, nonché ricompresa anche nelle tutele del piano paesaggistico regionale. Nonostante tutti i vincoli ambientali, i lavori di trasformazione sono risultati sprovvisti dei prescritti titoli abilitativi, contrastando così il divieto assoluto di trasformazione e distruzione di aree naturali pascolive, categoricamente vietato dalle norme interne ed europee. Per questo l'intera superficie, circa 58 mila metri quadri, è stata posta sotto sequestro preventivo e il proprietario originario di Andria, già altre volte deferito per identiche violazioni, è stato nuovamente segnalato all'autorità giudiziaria di Trani.